Grazie a tutti. Grande sindaco, vieni, come stai? Vieni a fare la foto? Come stai Gianni? Dai, vieni, si fa la foto e poi vi lascia andare a fare la cosa. Vai, pronti? Vai, vai. Non vedo tutti, il sindaco non si vede. Si firma bene l'azienda. Vai, fatto qui il Presidente? Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Siamo felici di essere stato informati. Grazie. 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 Grazie.